Abbiamo finito le relazioni che volevano introdurre alla lettura di questo volume, ora abbiamo un po' di spazio per gli interventi, ci sono altri autori che io ringrazio ancora per aver voluto partecipare all'avventura faticosa di questo volume. E non l'ho detto prima, ringrazio anche la casa editrice DS per aver accolto nel suo catalogo questo volume, quindi se qualcuno degli altri relatori, vedo collegato Bernardino Fantini e anche altri, vogliono intervenire, abbiamo qualche minuto di tempo, anzi una ventina di minuti per discutere. Grazie a tutti. Intanto voglio ringraziare per quella che anch'io considero un'opportunità davvero importante e poi ribadire che anch'io condivido il giudizio che l'onorevole Bindi dà della figura professionale, umana, di maestro. Per me è stato un maestro Giovanni Berlinguer, quindi come dire sono stata davvero onorata di avere l'opportunità di partecipare a questo lavoro. E sempre rispetto a quello che è stato detto finora anche dagli altri relatori, se c'è una cosa di cui mi rammarico, sicuramente mi rammarico di non aver citato esplicitamente Tina Anselmi, perché sì, se lo meritava, è stata la prima firmataria, è stata la ministra che ha firmato di fatto la legge e concordo sul fatto che forse meritava uno spazio maggiore. Però sai, quando si scrive velocemente un testo in cui si deve molto sintetizzare, poi magari ci sono anche di queste sviste. Mentre invece sulla questione più di sostanza vorrei fare un richiamo veloce. Allora, proprio ripercorrendo le riforme che sono state realizzate in quell'anno, in quei pochi anni magnifici direi, per la capacità di innovare il sistema paese che hanno dimostrato, una cosa salta agli occhi in modo evidente. Il fatto che queste riforme, quelle già citate, le ricito da quella a Basaglia alla nostra, quella di cui parliamo in modo più ampio oggi, quella del sistema sanitario nazionale, avevano dentro non soltanto un pensiero alto, il richiamo alla Costituzione che è stato fatto, il richiamo ai principi dell'universalismo, ai principi dell'equità e quant'altro, ma avevano anche una potentissima capacità di innovazione, anche organizzativa. Diciamo la strutturazione, l'architettura del sistema era un'architettura profondamente innovativa. Quello che io ho cercato di sostenere però nel testo è che è proprio questo aspetto che nel tempo è stato invece completamente, è in modo se vogliamo un po' surrettizio, non applicato. Cioè la vera questione è che questa riforma ha subito, e questo lo diceva anche Giovanni Berlinguer, ha subito all'indomani di questa firma famosa un continuo, diciamo, più o meno palese tentativo di non applicarla proprio per il suo carattere profondamente rivoluzionario. Io, è cambiato il contesto, questo è stato richiamato anche sia nel libro che da coloro che mi hanno preceduto, è cambiato proprio il contesto politico, gli accordi, le alleanze, è cambiato poi progressivamente il paese. Però su una cosa non concordo con l'onorevole Bindi e ci tengo a ribadirla, naturalmente si tratta della mia opinione, io credo davvero che tutte le riforme che sono susseguite nel corso degli anni abbiano avuto come retropensiero quello della razionalizzazione economica. Altrimenti non mi spiego perché non si è, diciamo, non si è posta un'attenzione più marcata su una questione che io considero centrale. Nel momento in cui hai anche una responsabilità amministrativa e politica così importante, ti devi porre il problema dell'attuazione dei principi e dell'impianto organizzativo della legge che hai tra le mani. Questo lo considero davvero un punto strategico. E quello di cui mi rammarico di più è che probabilmente se noi davvero avessimo dato attuazione e negli anni ne abbiamo avute varie occasioni e purtroppo non le abbiamo colte progressivamente, perché c'era questo, come dire, questo totem della razionalizzazione economica, probabilmente se invece noi avessimo dato attuazione a quei principi e a quei modelli organizzativi, su questo sono d'accordo, perché erano già profondamente innovativi in sé, non ci saremmo forse trovati oggi nella condizione in cui ci troviamo. Avremmo avuto quei servizi territoriali, quella capacità di risposta fuori dall'ospedale che oggi di fatto è mancata e continua a mancare. Quindi quello che voglio dire è che sarebbe importante una volta per tutte squarciare questo velo in cui ci richiama il fatto che il sistema è universalistico, è egalitario e garantisce l'equità, quando noi per primi sappiamo che questo nel tempo si è perso. Ecco, io credo che questo sia davvero scandaloso e quando parliamo per esempio di come funzionano le RSA, ma tutti lo sapevamo che le RSA erano un modello di risposta e bisogni della cronicità e della non autosufficienza che non dava risposte di qualità. Lo sapevamo, così come abbiamo fatto finta di non sapere che invece la risposta alternativa si basa su una privatizzazione del rischio non autosufficienza che è in capo alle famiglie, perché fuori dall'RSA ci sono le famiglie, ci sono i caregiver familiari, ci sono le badanti. Così come non possiamo non tener conto del fatto che aver introdotto dei principi di quasi mercato nel sistema alla fine ha determinato una situazione in cui oggi, dico oggi, noi viviamo, abbiamo sperimentato un sistema regressivo in cui le persone che hanno una minore disponibilità economica oggi con un servizio sanitario nazionale che per molti versi è rimasto tale solo sulla carta sono quelle che o fanno, come dire, vengono in qualche modo lasciate ai margini del sistema perché si devono, come dire, far fronte a liste d'attesa infinite oppure semplicemente non hanno le risorse per pagare il ticket o per pagare l'intramenia che è un altro, diciamo, effetto di razionalizzazione economica che si è determinato negli anni che si sono susseguiti alla riforma, queste riforme, delle riforme che si sono susseguite già l'indomani mattina della firma. Allora, quello che credo che sia importante, proprio perché ribadisco e concordo in pieno col primo relatore, che il nostro sistema sanitario nazionale è un bene preziosissimo e lo ha dimostrato a maggior ragione in questa circostanza così grave del quale non possiamo e non dobbiamo privarci però è molto importante disvelare quei meccanismi di mancata applicazione e di, diciamo, progressivo sfilacciamento che il sistema ha conosciuto negli anni perché solo mettendo in evidenza quello che è diventato noi avremo la possibilità di intervenire e di ribadire l'importanza di ripristinare quei valori, quei principi e quei modelli organizzativi. Altrimenti, come dire, ci accontentiamo di dire che il sistema c'è e che funziona e ci dimentichiamo un fatto fondamentale come quello legato alle differenze regionali che è il fatto che il nostro sistema sia oggi un sistema così differenziato ha snaturato completamente principi, valori e funzionamento del sistema sanitario nazionale. Finisco ricordando solo una cosa che si sentiva in tutti i dibattiti pubblici all'inizio, durante la prima emergenza. Tutti dicevano, no, è meno male che questi dati, questi numeri così importanti del contagio li ritroviamo solo in Lombardia perché se questo fosse successo al sud sarebbe stato un'ecatombe. Ammettendo implicitamente ed accettando quasi implicitamente che, come dire, questa differenza di risposta, di capacità di ottenere risposte a parità di bisogni dai cittadini del territorio nazionale fosse in qualche modo accettabile o comunque fosse un dato di fatto. Ecco, io credo che questo sia quello che forse mi permetto di pensare, lo penso, non ho nessuna prova che sia così, però penso che Giovanni Berlinguer di questo sarebbe stato profondamente, come posso dire, scandalizzato e in parte lo sono anch'io. Penso che davvero l'impegno di ciascuno, e questo libro può essere un'occasione, è quello di provare a riaffermare i principi, ma dando loro concretezza e soprattutto applicazione. Grazie, grazie che ti va caro. Ovviamente le eventuali manchevolezze, mancanze del libro, sono, le colpe sono distribuite equamente con il curatore, quindi se ci sono dei buchi, il 50% della colpa è la mia, non vi lascio da sole e da soli. Questo è indubbio. L'altra cosa è, Rosy Bindicea ce lo aveva detto all'inizio, ha dovuto lasciare in anticipo il collegamento. L'auspicio è quello che sia, questa sia solo la prima di altre, di una serie di presentazioni. Noi abbiamo voluto, spinto con la Fondazione Gramsci, perché almeno ci fosse una presentazione nell'anno di pubblicazione del volume. È molto a ridosso delle festività natalizie, in un clima che è quello che è di carattere generale, però ci sembrava importante che ci fosse un primo momento di discussione a ridosso dell'uscita del libro. Quindi, ora, tutte le occasioni in cui potremo discutere di questi temi sono chiaramente benvenuti e sarà anche un modo perché gli autori possano di nuovo interagire tra di loro. Speriamo che sia così. Grazie. Grazie. Grazie.